Le foglie colorate cadute frusciavano dolcemente sotto i piedi. Emma attraversò il parco deserto con uno stato d'animo infelice. Tornare a casa faceva un po' paura. Per la prima volta nella breve vita sua e di Alan, aveva tradito, dicendo che sarebbe andata in ospedale e che si sarebbe assentata dal lavoro. Non era nella sua natura, ma non c'era altro modo per risolvere i suoi dubbi. In effetti, quanti possono fingere di credere, non fidandosi assolutamente di lui in cuor suo. Ma non poteva essere una coincidenza che la scia di profumo femminile sconosciuto dal suo maglione, i capelli rossi sconosciuti sulla sua camicia, il tubetto di rossetto di qualcun altro rotolassero sotto il bagno. È vero, i capelli hanno la capacità di impigliarsi nei mezzi di trasporto affollati, e anche il tubetto di rossetto potrebbe essere stato perso da un'amica che è passata di lì l'altro giorno. Ma in qualche modo c'erano troppe coincidenze ed Emma fece il passo disperato di dire al marito che era andata in servizio e di presentarsi inaspettatamente a casa. Non aveva più tempo ed era ora di tornare a casa. Cosa l'aspettava lì? Il rimorso per i vani sospetti di Alan o l'amara delusione per il loro matrimonio. La delusione era spaventosa e i suoi piedi non volevano tornare a casa. Rimproverandosi per la sua codardia, Emma salì le scale e aprì silenziosamente la porta con le chiavi. La prima cosa che sentì fu la risata di Zara. Che stupida, si disse Emma, uguale Zara è venuta a trovarmi ed ero così preoccupata. Ma poi si rese conto che le risate provenivano dalla camera da letto. Facendo un respiro profondo, Emma aprì la porta e rimase in silenzio sulla soglia, contemplando il suo amato marito che stringeva forte tra le braccia la sua migliore amica. Che banalità! Le balenò distrattamente in testa. Banale, come un romanzo scandalistico da quattro soldi. In silenzio si allontanò da quella scena indecorosa e corse giù per le scale, senza ascoltare le grida e le scuse di Alan e senza vedere il volto spaventato di Zara. Non voglio vedere nessun altro, non voglio vedere nessun altro. Presto, fuori di qui, il più lontano possibile da questo inganno, da questo doppio tradimento. I suoi piedi la portarono da soli verso una destinazione sconosciuta. Per diverse ore la donna ingannata vagò per la città finché, completamente esausta, si accasciò su una panchina e rimase l'intontita fino al mattino. Al mattino tutte le decisioni necessarie erano mature, sarebbe partita immediatamente. Al pensiero di dover passare la notte nell'appartamento in cui era stata così spudoratamente ingannata, un duro groppo le salì alla gola. Oggi aveva un turno, l'occasione giusta per andare all'ufficio del personale e scrivere una lettera di dimissioni. E se non la licenziano, se ne andrà così, non le importava. Possiamo passare la notte in ospedale. Domattina, dopo che Alan sarà andato al lavoro, potrai venire a prendere le tue cose. Suo marito ha diritto a metà dell'appartamento, l'hanno comprato insieme. Ma non posso sopportare di dividerlo in questo momento. Forse più tardi, quando potrà vederlo. La nonna di Nancy ha lasciato una casa in paese, quindi potrebbe vivere lì per un po', forse si troverà un lavoro. In campagna la medicina è sempre un po' scarsa. L'ospedale fu un po' al sorpreso da tanta fretta, ma si mise in regola ed Emma ricevette il pagamento il giorno stesso. Dopo aver dormito sul divano al lavoro, fece rapidamente le valigie a casa e andò alla stazione ferroviaria. È stato un bene che lui sia stato abbastanza furbo da non presentarsi in ospedale per sistemare la relazione. Ora non la troverà mai più. Lei bloccò immediatamente il suo numero di telefono. La vecchia casa del villaggio accolse la nuova padrona con le persiane chiuse e un cortile pieno di erbacce. Dopo aver lottato contro la vegetazione, Emma aprì le imposte e tolse la polvere dalle finestre. Anche all'interno era polveroso, ma sorprendentemente tranquillo. I raggi di sole obliqui provenienti dalle finestre danzavano sulla polvere sollevata dal pavimento. In un angolo erano appesi dei fasci di erbe secche che Nancy aveva raccolto. Sul letto c'era una montagna di cuscini ricoperti di tulle. Profumava di infanzia, di pace e di distacco dalla frenesia della vita cittadina. Dopo un panino veloce, Emma prese un secchio e uno straccio e iniziò a dare alla casa un aspetto vissuto. La sera la casa era pulita e Emma, stanca, decise di lasciare le erbacce per domani. Il sole stava già tramontando e lei si sedette in veranda con una tazza di tè. Tutto intorno c'era pace e tranquillità. Non riusciva a credere che ieri avesse vissuto in una città vivace, piena di luci, persone e traffico. Lentamente, le farfalle notturne cominciarono a volare dall'oscurità alla luce e un pipistrello guizzò nel cielo. Emma sentì che la sonnolenza cominciava a farsi sentire con insistenza, così si diresse verso casa. La mattina presto fu accolta dal canto degli uccelli, gridato di tanto in tanto dai galli dei vicini. Dopo una rapida colazione, Emma decise di iniziare la seconda fase dell'abelimento e, armata di cazzuola, uscì in giardino. L'erba era in formazione, come truppe, e, inspirando, la ragazza tagliò il primo cespuglio. In pochi minuti una testa di donna, legata con uno scialle colorato, apparve dietro la siepe di un vicino e la domanda tanto attesa risuonò «Di chi sarai, mia cara? Ti fermerai a lungo? Buongiorno! Sono la nipote di Nancy, sono venuta a vivere qui. Enna! Non la riconosco più, signora di città. Ti sei ricordata di casa o la vita in città non va bene? Entrambe le cose, rispose Emma in modo evasivo. In ogni caso, per il momento rimarrò qui. Ecco! Prima vuoi una vita facile e poi, quando ti brucia, ti ricordi della casa di tua nonna». La vicina di casa strinse le labbra e continuò a lavorare. La battaglia con l'esercito verde durò fino all'ora di pranzo. Alla fine il nemico fu sconfitto e raccolto in un impressionante mucchio vicino alla recinzione. Ora bisognava occuparsi del vetro della finestra. Forse a un paio di metri di distanza viveva ancora uno zio Pete che ogni tanto dava una mano in casa. Pete era ancora lì, solo che era invecchiato parecchio nel corso degli anni. Riconoscendo Emma, la nipote del suo vicino, dopo qualche domanda, si grattò la nuca e dopo una breve pausa consentì. «Va bene, ti aiuterò in modo amichevole, ma dovrai pagare il vetro, i tempi sono duri di questi tempi». «Pagherò, naturalmente», assicurò Emma al vecchio con sollievo e si affrettò a casa per preparare un posto per le riparazioni. Pete arrivò presto con il vetro sotto il braccio, lo appoggiò con cura alla parete e cominciò a prendere le misure. La padrona di casa, per non essere disturbata, si fece da parte e iniziò a rovistare tra le stoviglie della credenza. «Bene, accettate il lavoro!» Dopo un po' lei il vecchio chiamò, ammirando il nuovo bicchiere ben inserito. «Grazie mille!» Emma era felice. «Quanto le devo?» Quando sentì la risposta, pensò che per quel prezzo avrebbe probabilmente fatto inserire un vetro veneziano. Ma non c'era nessun posto dove andare, così pagò senza discutere e pensò che il passo successivo sarebbe stato quello di trovare un lavoro. Perché, a quanto pare, la sua vita qui non sarebbe stata facile. Emma era diventata un'estranea nel villaggio per tanti anni e non sembrava che avrebbe ricevuto un'accoglienza calorosa e a braccia aperte. Così appese le tende stirate alla finestra appena smaltata e andò subito da Barney, il presidente. A differenza degli altri abitanti del villaggio, lui la riconobbe subito, l'ascoltò con attenzione e le sorrise con un ampio sorriso. «Sei arrivata da noi giusto in tempo!» La nostra paramedica ha appena sposato un militare ed è andata a prenderlo da lontano. «E dove ha trovato il suo spasimante?» «Anche se ora è possibile trovare un fidanzato straniero su internet. E il villaggio sta lottando da tre mesi, perché ogni sciocchezza in città non può andare in città, e la strada è lontana, e ci sono molte persone in ospedale. E tua nonna era l'ultima erborista del villaggio, non ti ha insegnato?» «No», Emma scosse la testa negativamente. «Io sono più sul versante ufficiale. Se non fosse stato per mia nonna, forse non mi sarei dedicata alla medicina. Ma mi piaceva vedere come curava le persone, come tornavano sane e la ringraziavano. Così ho voluto curare le persone. Quindi fatelo!» Ha riassunto Barney. «Ecco le chiavi della postazione delle infermiere. Domani sarai registrato e potrai iniziare. Ti ricordi dove andare?» «Sì», Emma confermò entusiasta. «Grazie mille, Barney. Non mi aspettavo che si risolvesse così in fretta. Quindi hai avuto l'idea giusta e sei venuta nel posto giusto». Barney alzò l'indice in tono di ammunizione. Al mattino, Emma aprì la porta della postazione dell'infermiera e iniziò a ispezionare i suoi effetti personali, buttando via i medicinali scaduti e facendo una lista di ciò che avrebbe dovuto comprare. La voce dell'arrivo del nuovo paramedico si diffuse immediatamente nel villaggio e in un'ora e mezza il primo paziente si presentò alla porta. Era un vecchio magro e gobbo, appoggiato a un bastone logoro, con occhi acuti e sorprendentemente giovani. «Chi è il dottore?» chiese dall'ingresso. «È stato lei?» «Dove è il camice bianco?» «È il laverò, lo stirerò e domani sarò in uniforme completa», fece un cenno alla vestaglia da medico appesa allo scaffale. «Avresti dovuto farlo subito», disse il nonno accigliato. «Altrimenti, che cos'è?» «Non c'è sterilità. Tutto intorno ci sono germi. «Di cosa ti lamenti?» Nascondendo un sorriso, la ragazza chiese al vecchio. «È un dolore nella parte bassa della schiena», disse il nonno roteando tristemente la testa. «Le braccia e le gambe si rompono sotto la pioggia». Scosse il bastone e lo scosse. «Curalo, dai, si è imparato a fare il medico». Avendo capito che il nonno aveva bisogno di parlare più che di curare, Emma continuò il suo lavoro, chiedendo al paziente tutti i suoi sintomi e ascoltando le sue lunghe tirate sulle sue malattie, mescolate ai racconti del suo vasto arsenale di ricordi. Alla fine dell'appuntamento, sapeva che il nonno si chiamava Sam, che soffriva di artrite e respiro corto, che era disperatamente infelice e compite e che rispettava molto Barney. Allo stesso tempo apprese quanto fossero buone le torte di Peggy, che Tina, nella strada accanto, faceva pagare lo stesso prezzo per il moonshine e che il bellissimo cavallo rosso di Gary era morto 15 giorni fa a causa della mancanza di medicina in paese. «Beh, probabilmente non sarei riuscita a gestire la cavalla», riassunse Emma durante il ricevimento. «Le darò un unguento per la schiena e le articolazioni. Dovrebbe alleviare un po' lì il dolore grazie a un veleno speciale». E consegnando a Sam il tubetto, se ne andò a casa. A casa, sentendosi piuttosto affamata, Emma aprì il frigorifero per riscaldare il pilaf che aveva preparato ieri. Era un piatto che amava e sapeva fare, e aveva un ottimo sapore, speziato, ma non piccante. Prevedendo un pasto abbondante, Emma aprì il calderone e si bloccò. Invece di due porzioni di pilaf, riuscì a racimolarne solo una. «Ho mangiato troppo ieri sera per la stanchezza?» Si chiese. «Ma non l'ho mangiato in uno stato di incoscienza. Dopotutto pensavo di averne abbastanza per un paio di giorni». Non c'era spiegazione per lo strano fenomeno. Decidendo di non preoccuparsene, la ragazza accantonò i suoi pensieri per dopo e iniziò a cucinare il borscht. Sbriciolando un cespo di cavolo, pensò involontariamente, «Mi chiedo, e domani prenderò mezza pentola di borscht, o il mangiatore poco appariscente non mi lascerà proprio nulla?» Ma c'era molto da fare, dopo domani bisognava preparare una vestaglia bianca e una camicetta fresca. Il secondo giorno i pazienti aumentarono. Cinque persone si presentarono alla reception, una giovane donna con un dolore all'orecchio, una giovane madre con un'eruzione cutanea che non era venuta da nessuna parte, una donna anziana con ipertensione e un ragazzo che si era tagliato la mano con un vetro rotto. Verso la fine si presentò Sam, che sentì il bisogno di ringraziare il medico per il meraviglioso unguento. Emma fu lieta di vedere la diffidenza e la freddezza delle persone che arrivavano sciogliersi. Com'era felice la giovane madre, come la pressione sanguigna dell'anziana donna era scesa dopo l'iniezione, come Sam roteava allegramente i baffi. Tornò a casa stanca ma soddisfatta. La sua curiosità, risvegliata in un attimo, la portò prima al frigorifero. La pentola di borscht era lì, la quantità di zuppa non poteva essere analizzata chiaramente. Sembrava meno, o forse no a meno che non si trattasse di mezza porzione. A quanto pare l'ospite non invitato preferisce il pilaf al borscht. Sorrise e mise la pentola sul fuoco. La parziale riduzione del cibo continuò per diversi giorni. Alla fine, non potendo più sopportarlo, Emma attaccò discretamente i capelli alla porta del frigorifero, borbottando, beh, giocare alle spie è una cosa vera. La sera, i capelli erano spariti, così come un paio di cotolette nel vassoio. Emma era completamente sconcertata. Cioè, qualcuno ha girato per casa mentre lei era via, ma le cose sono tutte al loro posto, non sembra che ci siano dei ladri. Dopo essersi scervellata per una sera senza risultato, il giorno dopo condivise le sue osservazioni con Sam, che ormai si considerava un paziente d'onore dell'infermeria e la visitava quasi ogni giorno. Alla notizia, Sam sgranò gli occhi e alzò l'indice al cielo. Nancy, tua nonna era una stregona, quindi devi avere ancora qualche potere. Sam lo supplicò a Emma. Quale potere? Nancy sapeva solo raccogliere erbe e prepararle. Le erbe si possono trovare anche in farmacia. Non so, non mi viene in mente nessun'altra spiegazione. È meglio che chiuda il suo locale e vada a casa. Sta arrivando un temporale. Puntò il bastone verso la finestra. Fuori dalla finestra c'era effettivamente un grande temporale in arrivo. Enormi nuvole scure erano basse al suolo e coprivano l'intero cielo. Avevano già inghiottito il cerchio del sole, portando un vento freddo e rafficato. Vai a casa! Ordinò ancora Sam, e zoppicando con un'agilità che non si addice a un malato cronico, si affrettò verso il suo cortile. Emma lo seguì di corsa, ansimando per il vento che le soffiava in faccia. Le prime gocce colpirono il suolo appena fuori dal cortile. Le prime gocce colpirono il suolo del cortile, seguite da una valanga d'acqua, e la ragazza volò sotto il tetto di salvataggio, inzuppata fino alla pelle. Fuori gli elementi imperversavano e il cortile si trasformò immediatamente in un piccolo lago. I torrenti impetuosi di pioggia si precipitavano lungo la strada. Gli alberi si piegavano sotto le raffiche di vento dell'uragano. Un po' spaventata per l'integrità del tetto, Emma si cambiò rapidamente con abiti asciutti e mise a bollire il tè. Il temporale si trasformò in pioggia e alle 10 di sera tutto era tranquillo, e la natura era tranquilla. Ma non c'era pace nella vecchia casa. L'orecchio acuto di Emma, anche attraverso il rumore della pioggia, percepì alcuni strani suoni in soffitta. Nel silenzio sentì un rumore di passi. Emma, spaventata, decise di guardare fuori e di chiamare i vicini in caso di problemi. Il cortile era vuoto e umido e le finestre dei vicini erano buie. Una vecchia scala attaccata alla soffitta attirò l'attenzione di Emma. Di solito giaceva nell'erba dietro la casa, ma ora era appoggiata alla casa con tracce di fango fresco. La ragazza si precipitò in casa, chiuse tutte le serrature disponibili e si rannicchiò spaventata sotto la coperta, come se anch'essa fosse una difesa in più. Dopo averci pensato un po', prese un robusto martello come protezione, infilandolo sotto il cuscino. Avendo preso la ferma decisione di recarsi alla stazione di polizia domattina, Emma cade in un sonno pesante e riposante. La mattina, tuttavia, portò con sé i propri aggiustamenti. Alle sette, quando il sonno della notte aveva già lasciato il posto a un sonno leggero, si sentì bussare delicatamente alla porta. Senza lasciare il martello, Emma tirò indietro il chiavistello e fissò l'ospite, santo cielo. Era uguale ad Alan, ma magro, non rasato e con un vestito vecchio. Le girava la testa e un pensiero allarmante le balenò nella mente. Mi chiedo se sia successo qualcosa ad Alan e lui l'abbia trovata in mezzo al nulla. Ma lo sconosciuto parlò e l'ossessione svanì. La sua voce era più bassa, leggermente rocca, un po' come quella del suo ex marito. Dovrete perdonarmi per l'inconveniente, ma devo arrendermi alla vostra clemenza. La partigianeria e la dissimulazione sono del tutto impossibili. Mi permette di entrare? Vi spiegherò tutto. Confusa dalla squisita parlantina e dall'indirizzo cortese, Emma si fece da parte, lasciando che l'uomo entrasse in casa. Entrando con sicurezza in cucina e sedendosi su uno sgabello, lo straniero continuò, vede, non sapevo affatto che questa casa fosse sua. Pensavo fosse una normale casa abbandonata, come tante in campagna. Le circostanze mi hanno portato a essere un senza tetto e ho preso la vostra casa senza autorizzazione. Ho vissuto qui per qualche mese e poi siete arrivati voi. Naturalmente me ne sono andato e mi sono costruito una capanna qui vicino. Dopotutto, sono abituato a questo posto. Ma il temporale di ieri ha distrutto la mia abitazione in un colpo solo e ho dovuto fuggire dalle intemperie nella tua soffitta. Mi sono salvato dalla tempesta, ma probabilmente ti ho spaventato a morte. Dovrai perdonarmi. E il pilaf e il borscht, anche quello è opera tua? Chiese Emma. Mio, ammise l'uomo. Non so come sia successo. Era da molto tempo che non mangiavo un pasto fatto in casa. E il suo pilaf? Aveva un sapore così straordinario che non ho potuto resistere. Ti ho lasciato dei soldi come risarcimento, in quel piccolo borsellino nella credenza, e indicò un vecchio mobile di porcellana. La ragazza aprì l'anta e trovò un piccolo portamonete con banconote di grosso taglio. E tu sei un originale. Lei rise. Un vagabondo con un codice d'onore, per così dire. Ma io ero un vagabondo non molto tempo fa. Lo straniero sorrise tristemente. Non ho ancora perso la mia forma umana. Emma balbettò. Era imbarazzante aver fatto del male a una persona normale. Dicono che non si può essere al sicuro dal carcere o dalla prigione. Mi dispiace, disse in tono di scusa. È una storia molto triste. Una storia ordinaria, disse l'uomo agitando la mano. Tutto era banale, i miei affari. Non un'impresa enorme, certo, ma erano in piedi. Mia moglie era la mia preferita. Ma evidentemente sono un pessimo giudice del carattere. Ho portato un uomo del genere vicino a me. Io, uno sciocco, pensavo che io sono il capo. Mia moglie è il capo contabile e il muro sarà indistruttibile. Il nemico non passerà. Solo che il pilastro principale ha tremato. Mi sono innamorato di mia moglie nel mio vice. Hanno prelevato segretamente denaro dall'azienda sotto la mia firma. Sono sotto l'articolo. Non potevo sopportare un tale tradimento. Ho abbandonato tutto e sono fuggito. Da quattro anni sono un'eremita in campagna. Questa è la storia. Anche mio marito mi ha tradito, mi ha detto Emma. Non come te, naturalmente, ma mi ha fatto male. Ora non ho un marito, non ho una migliore amica, non ho un appartamento. Quindi, in un certo senso, sono in fuga anch'io. Come ti chiami? Leon sorrise l'uomo. E so come ti chiami, sei Emma. Piacere di conoscerti, Leon. E sai una cosa? Emma si rianimò all'improvviso. Visto che è successo che ti ho ospitato, ti offro una stanza in casa. Comportati bene. Non ho progetti di vasta portata, dobbiamo solo aiutarci a vicenda. Io cucino il tuo pilaf, tu sistemi il mio wicket, ok? Affare fatto! Leon sorrise ancora di più. Prometto di essere un bravo ragazzo e di guadagnarmi il pane onestamente. Qualche giorno dopo, Sam arrivò in infermeria arrabbiato e scontento. Che cosa hai combinato? Si rivolse a Emma con uno scatto. Perché hai fatto entrare quel senzatetto? La gente stava iniziando a rispettarti. Abbassa la voce, Sam. Lei rimproverò dolcemente il vecchio. Ma devi aiutare un uomo in difficoltà. Ha dormito a casa mia mentre ero via. Cosa vuoi fare? Buttarlo per strada. È un uomo onesto, ma è stato deluso dalla sua famiglia e dal suo lavoro. Quindi non ha nulla. Nonna Nancy diceva sempre, dai a tutti quelli che ti chiedono. Questo si vergogna di chiedere. È lui che ha mangiato il mio borscht e ha messo i soldi nella credenza per non rubare. Sam agitò le mani, beh, mia cara, credo che tu abbia ragione. La gente dice che è un peccato cacciare un cane dal cortile. Ma qui c'è un uomo. E che uomo? Anche se ha fame, è coscienzioso. Mi dispiace se ti ho offeso. Ne ho sentite abbastanza di lingue di donne malvagie. E con queste parole, Sam se ne andò allegramente. Leon si rivelò un buon inquilino, non era inattivo. Riparava qualcosa, pescava pesci per la zuppa, portava funghi dalla foresta. A volte andava dai vicini a fare qualche lavoretto. Con Emma era educato e non invadente, ma ogni tanto lei coglieva il suo sguardo pensieroso e un po' triste. Anche a lei piaceva Leon, la sua raccolta, le sue poche parole e il suo rigore maschile. Ma la somiglianza con l'ex marito la spaventava e la costringeva a mantenere le distanze, il dolore per il tradimento subito non le permetteva di accorciare le distanze. Un giorno, tornando dal lavoro, Emma trovò Leon profondamente pensieroso, con un giornale accartocciato tra le mani. Alla domanda su cosa avesse, l'uomo rispose brevemente, Irene è morta in un incidente d'auto, mia moglie, e ho un bambino piccolo lasciato dal mio secondo marito. Devo andare urgentemente in città. Per quale motivo? Emma, sorpresa, prende il giornale con una nota sull'incidente. È passata una settimana, è stata sepolta molto tempo fa. Non si tratta del funerale. Vede, non si tratta solo di disperazione, non volevo aprire un caso. Avrebbe potuto finire in prigione, per molto tempo. Hanno lavorato sporco, avrebbero potuto dimostrarlo, ma io non volevo. Ero felice con lei una volta. E allora non avevo una causa per cui combattere. E ora ce l'ha. Emma si è buttata a capofitto. Ora ce l'ho. Leon sorrise dolcemente e mise un braccio intorno alle spalle di Emma. Andarono insieme in città, su insistenza di Emma, e trovando la vecchia casa di Leon, videro un vecchio che scavava sotto i cespugli di rose fuori dalla recinzione. Mark chiamò Leon a bassa voce. Emma, che osservava attentamente il suo compagno, notò che era preoccupato. Il vecchio si raddrizzò, guardò gli ospiti e, non avendoli ancora riconosciuti, si avvicinò. «Leon, da dove vieni?» disse finalmente con sorpresa. «È da molto tempo che non ho tue notizie». Praticamente dal nulla, Leon rispose evasivamente, e a sua volta chiese come andavano le cose qui. «Mark, ho saputo che Irene è morta». «Sì, il vecchio si accigliò». «L'hanno seppellita la settimana scorsa, Tony è rimasto orfano di quel subumano». «Cosa vuoi fare? Andare in giro di nascosto o farti reintegrare?» «Reintegrazione!» «Leona ha detto di sì». «Perché quel subumano?» «Tratta male suo figlio?» «Chi trattava bene?» «Mark si accigliò». «Dio aveva punito Irene mentre era ancora viva». «Aveva alzato le mani, l'aveva insultata, aveva fatto quello che voleva». «Ma almeno con lei era più calmo». E ora, per i primi giorni, non ha fatto altro che urlare contro i bambini, imprecare, e ora sta facendo domanda per un istituto per bambini. «Torna in casa, Leon». «Sono esausto». «Sì, paziente, Mark, tutto sarà fatto». «Leon stringe la mano al vecchio e si allontana dalla casa». «Il ragazzo deve essere portato via da lì». «Non è colpa sua se ha dei genitori così». «Prima devo far cadere le accuse contro di me», disse Leon. «E cosa faremo a questo proposito?» «Pensò il vicino». «Dovremmo scrivere una dichiarazione». Leon aprì bruscamente la porta ed entrò. L'ufficiale di turno, dopo aver ascoltato l'essenza del caso, li indirizzò all'ufficio con un numero 5 traballante sulla porta appena dipinta. Mentre apriva la porta e si accingeva a salutare, Leon scoppiò improvvisamente in un sorriso e tese la mano al capitano che era saltato fuori da dietro la sua scrivania. «Paul, ci sei?» «È passato tanto tempo». «Non ci vediamo dai tempi del diploma». «Leon, non ti riconosco affatto». «Leon, cosa ci fai qui?» «È successo qualcosa?» «È successo», confermò il mio amico. E cominciò a raccontarci una storia dettagliata. «Beh, cosa c'è?» Paul scosse la testa quando il compagno di classe finì di raccontare la sua disavventura. «Potrei vendere la sceneggiatura al cinema». «Ma sul serio, mi occuperò io stesso del tuo problema». «Questo truffatore è già sotto la nostra luce per un caso». «È ancora un testimone, ma spero di farlo diventare un imputato con il suo aiuto». «Siete single o non proprio single?» «Non siete sposati?» chiese Emma con uno sguardo sorgnone. «Non lo so ancora», rispose Leon onestamente. «Spero non del tutto». Quando Leon lasciò la stazione di polizia, si sedette su una panchina vicina e cade in un silenzio concentrato. Emma aspettò pazientemente. Alla fine lui guardò la sua compagna e, guardandola dritta negli occhi, le chiese «Vuoi sposarmi?». Emma rimase senza fiato e finalmente si decise a porre la domanda che aveva in mente da tanto tempo, se mi risponderai alla domanda che ho in mente. Leon divenne improvvisamente più serio che mai. «Voglio sapere se hai un fratello gemello». «Il fatto è che lei è identico al mio ex marito. A volte non sono me stesso». «Ecco!» «Leon si è oscurato». «Quindi significa che Alan si è imbattuto in te e ha lasciato un brutto ricordo». «Questo complica le cose». «Perché?» «Emma era preoccupata». «E perché Alan non mi ha mai detto di avere un fratello?» «Perché nell'orfanotrofio in cui siamo andati quando i nostri genitori si sono schiantati con l'aereo, siamo stati messi in famiglie separate e siamo cresciuti a parte». «Questo non è proprio permesso». «Ma ho attirato l'attenzione di una famiglia molto potente». «Non ne volevano due, così mi presero come il più serio». «Alan rimase lì per molto tempo». «Non mi sopportava». «È cresciuto in un orfanotrofio». «No, anche lui è stato adottato quando era adolescente». «Ma era una famiglia normale». «Hanno perso il loro figlio e hanno accolto quello di qualcun altro». «È il tipo di vita che non si può inventare». «Ora dovrei disgustarti, come promemoria quotidiano del tuo tradimento». «Come hai fatto a vivere così a lungo sotto lo stesso tetto con me?» «Ho vissuto bene», rispose Emma con aria di sfida. «Le donne amano con il cuore, non con gli occhi». «Allora ho una possibilità». «Gli occhi tristi di Leon si scaldarono». «E anche quelli di Tony», disse Emma ridendo, nascondendosi tra le forti braccia del futuro marito. I mesi successivi furono una serie di problemi. Leon negava i suoi problemi con la legge, sparendo spesso e per lunghi periodi a casa di un compagno di classe. Emma stava ultimando il divorzio da Alan. Dovette andare in tribunale a causa dell'appartamento condiviso e i fratelli si incontrarono in tribunale. Ma l'incontro si rivelò molto freddo. I vecchi rancori di Alan sono stati aggravati dalla gelosia nata e l'incontro gioioso non è andato a buon fine. «Cosa, fortunato bastardo, ora vuoi portarmi via mia moglie?» Alan guardò il fratello in modo poco gentile. «L'hai persa prima di me, vero?» Leon rispose con calma, rendendosi conto che la frattura di lunga data tra loro stava diventando un abisso. «In colpa a te stesso». «Me ne occuperò io senza di te!» Alan tornò di scatto, aprendo la porta della sala conferenze con uno scatto, cercando di non ammettere a se stesso che suo fratello aveva ragione. Aveva perso Emma a causa della sua stessa stupidità. Il processo si concluse in una sola seduta, poiché la coppia non viveva più insieme da molto tempo. Il tentativo di Alan di negoziare un periodo di riconciliazione fallì, ed Emma ottenne il divorzio e il diritto alla metà dell'appartamento. «Ebbene, come lo dividerete?» chiese Alan. «Dopo il processo, metterai una parete divisoria? Lo venderai e ti comprerai una stanza?» Cercando di mantenere la calma, rispose l'ex moglie. «Vendere? Mi hanno ingannato! Alan, ti sei ingannato da solo! Prenditela con te stesso! Ci rimetterò comunque meno di quanto ho investito!» Emma si affrettò a chiudere la sgradevole conversazione e condusse Leon verso l'uscita. «Bene, ora da un ufficio all'altro!» disse Leon, quando il sole splendente e il rumore della strada fecero svanire le sgradevoli impressioni dell'aula. «Cela faremo in tempo!» Emma esitò. «Correremo!» disse Emma, e gli occhi del futuro marito si illuminarono di un'allegra luce. E loro, come scolari, saltarono su e giù per aprire una nuova pagina della loro vita insieme. «Tre settimane dopo, Emma stava cercando di annodare la cravatta di seta di leonei, forse dovremmo farlo, siamo in ritardo per il matrimonio», disse nervosamente lo sposo. «Aspetta, ci sono quasi!» La sposa non lo lasciava andare. «Devi essere irresistibile!» «Comunque non posso superarti,» rice Leon, guardando la sua futura moglie. Così aggraziata, naturale e raffinata in un semplice abito color avorio. «Starebbe bene con qualsiasi vestito!» «Ci sarà un poll!» chiese Emma, che aveva già sistemato la cravatta e i capelli. «L'ha promesso!» E promissa anche un regalo insolito come testimone. «Beh, addio vita da single!» Leon Rice prese in braccio la radiosa sposa. Paul era serio come a un grande ricevimento sociale. Anche dopo la firma, seduto nell'accogliente ristorante, rimase misteriosamente in silenzio, facendo solo il primo brindisi. «Paul, non languire! Ti conosco come un uomo irradiato!» «Ci sono novità?» «Mi impedisci di presentare solennemente il mio regalo più importante», disse Paul con tono importante, spiegando il suo tovagliolo. «Harry, il vostro vice, è stato accusato di frode, furto aggravato e tentato omicidio della moglie comune. L'udienza in tribunale si terrà la prossima settimana. Tutte le accuse contro di te, Leon, sono state ritirate. Ti è stato restituito il diritto di proprietà e sei pulito di fronte alla legge. Paul, sei un genio dell'investigazione», Leon si strinse all'amico in uno stretto abbraccio, «e cosa hai detto dell'attentato?» Irene non si è schiantata da sola? «No», Paul scosse la testa. Era stata coinvolta in un'altra truffa e stava per confessare. Quindi non ha raboccato il liquido dei freni. «A proposito, voglio patteggiare con lui. Gli offrirò una riduzione della pena se rinuncerà ai diritti sul bambino». «Le va bene?» «No, certo che no», disse Leon pensieroso. «Il fatto che resterà in prigione più a lungo non renderà il bambino migliore. Il orfanotrofio lo darà via di sicuro». «Oh, Irene!» «Una scivolata e ti ritrovi a rotolare come un grumo». «Il mio padre adottivo diceva sempre che è meglio perdere con un uomo intelligente che trovare con uno sciocco». «Mi stai rendendo amara!» Paul fece di nuovo quel faccione. «Per favore, addolcisci la vita del testimone!» gridò a tutto il ristorante. «Amaro!» Leon ed Emma dovettero solo neutralizzare l'urlo con un lungo bacio. «Non voglio una cotoletta», si contorse il bambino di tre anni sulla sedia e cercò di schivare il cucchiaio che gli veniva portato al naso. «Tony, hai già mangiato le cotolette?» «Ho bisogno di un altro Paul di ricotta per mantenere i suoi denti forti», disse Emma, cercando senza successo di fargli entrare in bocca un po' di ricotta. «Aspetta!» «Non va bene», la fermò Leon Tony. «Vorresti un carro armato commestibile?» Il ragazzo sgranò gli occhi, osservando come dalla massa di cagliata emerge lo scaffo della torretta, in cui viene inserito il muso di cioccolato. Sullo scaffo compaiono bruchi fatti di bacche. E tutto questo splendore è ricoperto di biscotti grattugiati. La vasca sparì in bocca quasi all'istante. Emma guardò ridendo mentre il bambino infilava diligentemente il muso di cioccolato nella sua bocca piena. Poi chiese «Sai fare una carrozza?» «A cosa serve una carrozza?» disse Leon, sconcertato. «Ma se nasce una bambina che non è interessata i carri armati?» Emma strizzò gli occhi sorgnone e sentì le forti braccia del marito sollevarla e farla girare per la stanza.